Almeno sei morti nella contea di Kalamazoo, in Michigan, negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni, un uomo di una cinquantina d'anni, a bordo di una macchina azzurra, avrebbe preso a sparare in modo casuale contro la gente che incontrava per strada. Secondo l'ufficio dello sceriffo locale, è stato arrestato qualcuno fortemente sospettato di essere coinvolto negli attacchi. Alcune persone sono state uccise in un ristorante, due presso un rivenditore d'auto. Altre sono state ferite, ma non si conoscono le loro condizioni. Un ragazzino di 15 anni sarebbe gravissimo.